La pandemia è tutt'altro che alle spalle, così l'assessore regionale alla sanità Riccardi a margine della vaccinazione dei giocatori della Triestina che danno l'esempio. La genetica medica del burlo attraverso una procedura che permette di diagnosticare velocemente malattie rare ha salvato la vita di una neonata. Nonostante le voci di un possibile slittamento, le elezioni comunali dovrebbero svolgersi regolarmente il 10 ottobre così l'assessore agli enti locali Pierpaolo Roberti. La CGL chiede una capina di regia sul futuro laminatoio previsto alle Noghere. Serve chiarezza sul lavoro e ambiente, dice il segretario Figa che chiama in causa Danieli e la regione. Il mondo del lavoro cambia, alcune professioni presto non esisteranno più, per il futuro occorre puntare sul digitale. L'ambiente è delingue, lo dice uno studio del CDA Federmanager. I cinghiali danneggiano i suoi campi, la regione lo esercisce con poco più di 12 euro. È successo un agricoltore di Piscanzi che ora chiede una cifra adeguata al danno subito. Siamo andati a vedere come rinasce Aquario. Il nuovo tratto di costa Muggesan ha recuperato e attrezzato per la bagnazione. Tra i bagnanti c'erano anche tanti triestini. Telespettatori di Telequattro, buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. La pandemia è tutt'altro che alle spalle. Così stamattina il vice governatore e assessore alla sanità Riccardo Riccardi ha i microfoni di Telequattro. Vediamo. La pandemia è tutt'altro che alle spalle. E tutti gli spazi di libertà che ci siamo conquistati, li abbiamo conquistati con fatica. Io credo che il comportamento responsabile di tutti possa determinare che questi spazi di libertà rimangano. Altrimenti saremmo un po' tutti complici di ridurre quello che è di ritornare a scelte che io mi auguro non siano più da prendere. Ma questo dipenderà sicuramente dalle regole, ma anche dal comportamento e dall'approccio alla vaccinazione di tutti noi. Noi stiamo cercando di convincere le persone a un'accessibilità dell'informazione migliore. Adesso stiamo scrivendo a tutte le persone che hanno superato i 60 anni e che non si sono vaccinate, non dicendogli dovete vaccinarsi, ma andate dal proprio medico di fiducia, che significa il medico di minacina generale o lo specialista che vi segue per alcune cose. parlate di queste cose, perché soltanto in un colloquio che riguarda anche la vostra condizione personale probabilmente potreste guadagnare quella fiducia che per noi diventa importante per raggiungere quella quota di 900 mila persone che oggi ci vede ancora lontana, perché se non ne abbiamo superate 720, quindi quello diventa importante e secondo me diventerà importante. Oggi sicuramente abbiamo un tema di protezione degli ospedali, che in questo momento sta rispondendo in maniera importante. Abbiamo le persone fragili che in una quota importante per alcune decine di migliaia di persone devono essere ancora vaccinate e in più non possiamo neanche sottovalutare come l'andamento del contagio oggi continua a colpire persone di giovane età. È chiaro, quelle soffrono meno rispetto ad un rischio ospedaliero, ma comunque sono portatori di contagio. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.384 test sono state riscontrate 15 positività al coronavirus pari allo 0,27%. Nel dettaglio su 3.342 tamponi molecolari sono stati rilevati 13 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,39%. Su 2.042 test rapidi antigenici, due casi pari allo 0,1%. Nella giornata odierna non si registrano decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva, i pazienti in altri reparti sono 4-1 più di ieri. E i giocatori della Triestina si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti-coronavirus alla centrale idrodinamica del Portovecchio, lanciando un messaggio alla città e a tutti i tifosi. Tutti uniti in campo, tutti in coda al centro vaccinale. Obiettivo sconfiggere il Covid prima di provare a fare lo stesso con gli avversari su un campo da calcio. La Triestina ha dato l'esempio oggi alla centrale idrodinamica del Portovecchio. Tra i primi a sottoporsi all'iniezione, l'amministratore unico Mauro Milanese, che avendo contratto il coronavirus, sa perfettamente cosa si rischia non vaccinandosi. È importante vaccinarsi perché è chiaro che se tutti facciamo il vaccino, poi il virus non si trasmette più, è quasi banale e ovvio. Penso sia anche una cosa doverosa e sociale nei confronti degli altri che devono fare. Chi ha avuto il Covid, come l'ho avuto io, magari con una dose sola, ma soprattutto chi ancora non l'ha avuto, perché poi le varianti sono alle porte. Non vogliamo sicuramente ripetere un'annata come abbiamo fatto quest'ultimo anno e mezzo. Vogliamo andare in giro in sicurezza in tutto il mondo, quindi dobbiamo usare il Green Pass, non solo per andare allo stadio, ma proprio per viaggiare, spostarsi, lavorare, fare le vacanze, stare con le proprie famiglie. Quindi è importantissimo vaccinarsi. Un'adesione alla campagna vaccinale, quella dei giocatori dell'Unione, che ha reso orgoglioso anche il numero uno di Asugi, Antonio Poggiana, che rilancia sul messaggio a giovani e non solo. È un modo, un segnale importante da parte dei giovani che fanno sport, giovani che stanno bene in salute, ma che hanno capito la necessità e l'importanza di fare la vaccinazione. Speriamo che questo segnale sia di monito e convincimento anche al resto della popolazione in generale. Dunque, i protagonisti che contiamo di vedere quanto prima in campo, tra cui l'attaccante Mirko Petrella, un vero e proprio artista del gol. Sì, è importante perché comunque serve a stare anche un po' più tranquilli e sicuramente darà una mano a cacciarvi a questo virus che ci ha fatto dannare. Tra i tanti calciatori che passano sotto le mani di medici e infermieri per la vaccinazione, c'è pure un nuovo arrivo, il gigante Alessandro Coppola, difensore centrale di due metri e due, blindato con un triennale. Dopo l'iniezione di Pfizer, le speranze per la stagione che verrà. Sono molto contento di essere arrivato in questa piazza, in questa squadra molto importante. Spero di dare il mio contributo a provare a salire in una categoria maggiore. Ancora sugli scudi il burlo, attraverso un'indagine particolare, l'istituto è riuscito a salvare una neonata affetta da una malattia metabolica. Il fondatore della società che ha collaborato con il burlo ci spiega tutto. La bambina, già poche ore dopo la nascita, presentava un quadro clinico estremamente complesso e una sintomatologia che non permetteva di stabilire una diagnosi certa. Da qui la volontà del laboratorio di genetica dell'ospedale, in collaborazione con l'Università di Trieste, di procedere con il sequenziamento del genoma della neonata, con l'obiettivo di identificare le alterazioni genetiche o più comunemente note, come mutazioni o varianti causative della patologia. Attraverso la lettura del DNA e la diagnosi conseguente di malattie rare, è possibile salvare vite umane. È accaduto al burlo in questi giorni grazie al lavoro del laboratorio di genetica medica dell'istituto con la collaborazione di NGNOME, cui si deve un software particolare dal nome Evai, che ha appunto salvato la vita di una bambina. Alla base di tutto, una necessità fondamentale. Intervenire sulla terapia in modo tempestivo è con enormi benefici proprio per la neonata. Tutto ciò è stato reso possibile da un approccio particolare, l'identificazione di mutazioni genomiche che potessero confermare un'ipotesi diagnostica e indirizzare la terapia. Con un solo test genetico è possibile caratterizzare tutte le varianti di un paziente. Questo ha spostato il problema dalla lettura del DNA all'interpretazione delle varianti che vengono identificate a partire da esso. La velocizzazione dell'intero processo è garantita proprio dalla piattaforma. In particolare la nostra piattaforma Evai permette di classificare le varianti genomiche sulla base dei loro livelli di patogenicità, ovvero la capacità di causare una patologia, e le ordina sulla base di punteggi di rischio in modo tale da mettere in evidenza quelle che sono più probabilmente causative di una malattia genetica. Al momento, nonostante qualche voce preoccupata in seguito alla crescita dei contagi e dalle prospettive non incoraggianti, le elezioni comunali dovrebbero comunque svolgersi il 10 ottobre. Lo ha detto l'assessore regionale agli enti locali Pierpaolo Roberti, il quale però ha precisato che manca la conferma ufficiale da Roma. L'assessore regionale agli enti locali Pierpaolo Roberti, contattato telefonicamente, gettacqua sul fuoco delle preoccupazioni espresse a mezza voce per il momento da alcuni esponenti della politica locale, preoccupati dall'eventualità che una crescita dei contagi possa comportare, fra le altre cose, un ulteriore slittamento delle elezioni comunali. Al momento la regione non ha alcun motivo di credere che le elezioni non possano svolgersi il 10 ottobre, ha detto Roberti a Telequattro. Semmai, ha inteso sottolineare l'assessore, è il governo che ancora non ha dato alcuna concreta indicazione in tal senso. Secondo l'assessore, anche in presenza di una situazione pandemica in peggioramento rispetto a quella attuale, l'allestimento dei seggi e delle operazioni di voto potrebbe essere gestito senza particolari problemi, seguendo logicamente ferre e regole di distanziamento sanitario. Semmai, Roberti non lo nasconde né lo nascondono gli stessi politici, il problema potrebbe essere rappresentato dalla campagna elettorale, che altro è rispetto al voto. E' più che probabile perciò che agli incontri pubblici in piazza con i big della politica nazionale che di fatto hanno sostituito i comizi, si sostituiscono a loro volta iniziative al chiuso, con ingressi contingentati. Al momento però, come dicevamo, la data più probabile per la consultazione amministrativa a Trieste e in altre città chiave resta quella del 10 ottobre. Anche a Muggia si scalda la campagna elettorale in vista delle prossime comunali. Il candidato del centro-sinistra, Bussani, lancia la sfida al leghista Polidori, sottolineando però che la sua discesa in campo non è ancora ufficiale. È vero, il nome di Paolo Polidori gira da mesi, però di conferme ufficiali io non ne ho ancora sentite. Per cui, se mi date voi questa notizia oggi, che è lui il candidato ufficiale, io lo prendo e gli faccio i migliori auguri per una contesa basata sul fair play. La sfida tra vice sindaci che si prefigura per le comunali di Muggia non viene data per certa da Francesco Bussani, candidato già ufficiale in quota PD per la coalizione di centro-sinistra. E in effetti la conferma della sua discesa in campo da parte del leghista Paolo Polidori non c'è ancora, così come manca l'ufficialità di una ventilata candidatura di Roberta Tarlao che raccoglierebbe attorno al suo nome alcune forze politiche in una sorta di terzo polo. Una situazione anomala, dice Bussani, considerato che se la data del 10 ottobre sarà alla fine confermata mancano meno di tre mesi al voto. Io ricordo nel 2016, all'ultima contesa, c'erano nove candidati sindaci ma a tre mesi dalle elezioni erano ben tutti dichiarati e presenti sul territorio. Aspettando un quadro definitivo dei giocatori in campo, Bussani lancia la prima sfida da campagna elettorale. Cominciamo a parlare dei problemi di Muggia. Sarei curioso di capire anche quali sono le posizioni della controparte. Io ripeto, gli unici banchetti che ho visto fare sono banchetti generici con la faccia di Salvini. Io credo che ai nostri cittadini interessi più che si parli di Muggia per le amministrative di Muggia. Poi, per l'amor del cielo, non spetta a me giudicare le strategie dei miei potenziali avversari però dico solo che non credo sia l'approccio giusto. Ecco, bisogna parlare di Muggia. Un quarantenne con precedenti penali per rapina, lesioni e violazioni di domicilio è stato arrestato a Trieste per aver aggredito alcuni giorni fa alcuni agenti della polizia locale. La pattuglia era intervenuta in seguito alla segnalazione della presenza di una persona a terra davanti all'ospedale di Cattinara. Giunti sul posto, gli operatori hanno constatato il suo stato di alterazione alcolica. L'uomo ha però rifiutato il soccorso sanitario e prima aveva inveito contro gli agenti e dopo gli ha aggrediti con calci e pugni. Una volta bloccato, è stato accompagnato alla caserma di Via Revoltella e dopo le pratiche di rito è stato condotto alla casa circondariale di Via Coroneo in stato di arresto. In passato, l'uomo era stato sanzionato più volte per violazioni dai regolamenti comunali antidegrado ed era stato destinatario di più ordini di allontanamento. Un tavolo che renda trasparente il percorso di realizzazione del laminatoio di Noghere è quanto chiede la CGL alla Danieli e in Regione. Il sindacato chiede chiarezza sul previsto insediamento industriale alle Noghere. La CGL e in particolare i metalmeccanici della FIOMA hanno chiesto un incontro a uno dei due principali investitori, la Danieli, già il 29 giugno scorso, ma al momento non hanno ancora ottenuto risposta. Per conoscere da un punto di vista industriale, da un punto di vista delle ricadute del lavoro, ovviamente, ma anche per quello che riguarda l'indotto e anche per gli aspetti ambientali, un incontro con la Daniele. Incontro che non è venuto e da qui, come dire, l'iniziativa che ha fatto la FIOMA per sollecitare questo incontro. Recentemente la CGL si era scagliata contro la clausola di riservatezza contenuta nel protocollo d'intesa che ha come capofila il Presidente della Regione. Da quando è emersa questa notizia noi abbiamo avviato una serie di rapporti e contatti con il territorio, con i nostri iscritti, abbiamo intenzione anche di fare un'assemblea pubblica da questo punto di vista perché pur ritenendo noi importante un investimento industriale su questo territorio ha bisogno di momenti partecipativi e di una chiarezza perché è evidente che le persone che vivono su quel territorio sono preoccupate. E condividendo le preoccupazioni dei cittadini, soprattutto dei residenti del luogo in cui dovrebbe sorgere il laminatoio a caldo, chiede allo stesso Massimiliano Fedriga di istituire un tavolo per una maggiore trasparenza sul caso. Mi sembra sempre più urgente ed evidente la necessità di un intervento del Presidente della Regione perché emergano con chiarezza tutti gli elementi che compongono, sia quello ambientale, quello logistico, quello occupazionale e quello economico rispetto all'indotto, anche chi costruirà banalmente questo impianto. E quindi l'appello va al Presidente della Regione che prende in mano la situazione nel rapporto con la popolazione, con tutte le istituzioni e ovviamente le parti sociali che da sempre si fanno carico, come le di tenere assieme questa discussione. In quest'ora di Trieste, Irene Tittoni, ha ricevuto questa mattina in questura il console generale del Pakistan a Milano, Manzur Chondri. Tra i temi affrontati informa la questura l'immigrazione irregolare e regolare che riguarda i cittadini pakistani. E' stata auspicata una maggiore collaborazione in merito alle procedure di identificazione, fondamentale, sottolinea la questura, per dare esecuzione in caso di necessità ai provvedimenti espulsivi. Durante l'incontro è stato inoltre ribadito il ruolo della comunità pakistana in Italia e in città. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con altri servizi. I mutamenti del mercato del lavoro e le professioni del futuro se ne è parlato oggi nel corso di un appuntamento organizzato dalla CDA Federal Manager FWG, ospitato presso la sede dell'autorità portuale. Tra 5-10 anni molti lavori non ci saranno più e l'80% di quelli attuali subirà profondi cambiamenti. Quali saranno le nuove sfide professionali? Sarà più importante la formazione o l'esperienza sul campo? Sono le domande a cui ha cercato di rispondere la CIDA Federal Manager del Friuli Venezia Giulia, guidata dal segretario generale Daniele Damele, realizzando lo studio Come prepararsi alle nuove professioni, Agenda 2030. Stando al documento che analizza le trasformazioni del mercato del lavoro post-Covid, le professioni attuali che cresceranno sono pari al 36% di quelle attive, in particolare quelle legate alla tecnologia digitale, ambiente, cultura, comunicazione, servizi alla persona, sanitari e non, e formazione. Noi vogliamo pensare al futuro, consapevoli che dobbiamo lavorare tantissimo per salvare questo presente, ma dobbiamo ridare prospettiva soprattutto ai giovani. E quindi quali sono le parole d'ordine? Digitale, cambiamento climatico e quindi ambiente, sostenibilità e soprattutto le lingue per quanto riguarda i giovani. Quindi apertura totale al mondo, apertura secondo le proprie passioni. Ed ecco allora che il porto può essere proprio uno di quegli ambienti all'avanguardia dove l'adattamento ad un mondo del lavoro che cambia può essere seguito, studiato e analizzato meglio per poi applicare i moderni approcci a più ampio raggio. C'è un'evoluzione in atto sia di trasformazione digitale e tecnologica di ciò che consideriamo la portualità tradizionale, sia il fatto che il porto sta diventando qualcosa di totalmente diverso da quello a cui eravamo abituati. Quindi queste due transizioni sono probabilmente l'ambiente in cui si possono applicare, analizzare, studiare e su cui chiaramente si danno indicazioni a quelle che saranno le nuove leve da qui ai prossimi almeno dieci anni. Dunque nel pratico che fare? La relazione della Cida parla chiaro, orientamento scolastico e professionale da modernizzare e collegare al mondo del lavoro, allestire postazioni per lo smart working per consentire a chi vuole di lavorare da remoto vicino casa, il cosiddetto near working, lavorare sull'aumento delle competenze dei lavoratori e riqualificare professionalmente con corsi mirati chi opera in settori senza futuro, investire in modo mirato su progetti di sviluppo impreditoriale e come matrice comune a tutti i settori. A prescindere dal fatto che li abbiamo sconfitti l'altro giorno direi a tutti studiare l'inglese. La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di colore giallo valida da oggi pomeriggio fino alle 6 di domani per piogge temporali e vento previsti nelle prossime ore sulla regione. In serata, col passaggio del fronte associato alla depressione, l'instabilità sarà più diffusa per poi attenuarsi nel corso della notte. Probabilmente appunto nella notte le piogge e i temporali saranno meno frequenti e meno intensi. Il verificarsi di tali eventi, avverte la protezione civile, può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità nei pendii con locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali. Un risarcimento di 12 euro per i danni subiti dai cinghiali nei propri campi a Piscianzi e quanto ricevuto dalla regione Vincenzo Ferluga, proprietario di alcuni terreni agricoli destinati alla coltivazione di susini, che da molto tempo si batte per risolvere i problemi della fauna selvatica. 12,60 euro come indennizzo per i danni che i cinghiali hanno causato ai suoi campi. Solchi profondi che danneggiano le coltivazioni e mettono in pericolo lo stesso proprietario. E' l'ultimo atto di una lunga vicenda che coinvolge in generale chi lavora nelle proprie piantagioni e nel caso specifico il signor Vincenzo Ferluga e la regione da un po' di tempo deputata a gestire la fauna selvatica dopo l'abolizione delle province. Una situazione dettata da perizie, tabelle e indennizi giudicati una presa in giro oltre al fatto che anche sulla profondità dei solchi ci sono state versioni contrastanti. E' venuto l'incaricato regionale per periziare l'accaduto. La cosa si è risolta con un risarcimento di 12,60 euro. La particella doveva essere di 700 metri. L'incaricato ha scritto nella perizia che è danneggiata il danno totale al 90%. Sarebbero 630 metri. Dalle tabelle che la regione usa risultava da conteggiare con un calcolo di 250 euro a ettaro. Pertanto mi sembra un po' ridicolo. Da qui il ricorso con l'assistenza di un avvocato e la risposta che una seconda perizia sarà incaricata a un perito agrario di Pordenone. E la soluzione? Il cinghiale, diciamo inutile, qualcuno diceva sì, bisognerebbe catturarli, bisognerebbe e poi trasferirli, ma trasferirli dove? Chi li vuole? Qualcuno dice sterilizzarli, ma è un po' un'utopia, no? Perché insomma chi lo cattura, come si sterilizza, eccetera, con quali mezzi e spese. Quindi la soluzione sarebbe abbatterne di più? Abbatterne di più, poi adesso la forestale si sta mobilizzando mettendo anche delle gabbie di cattura, eccetera, no? Intanto però ciò che viene richiesto è un risarcimento che sia congruo con i danni riscontrati. Nella mia denuncia chiedevo un euro al metro quadrato, no? Poi se uno lo fa a mano in un terreno così di pendenza, eccetera, non accessibile a mezzi meccanici non mi sembra, sia anche modico, no? Però se poi uno applica delle tabelle, eccetera, poi diciamo falsando anche quello che è scritto sul verbale, con solchi di 5 centimetri, ma che solchi sono quelli di 5 centimetri? Non sono anche solchi, non è niente. Questa mattina siamo andati a vedere come sta rinascendo il lungomare acquario a Muggia dopo il recupero e la riqualificazione dell'aria. C'erano anche tanti bagnanti triestini. Come trova questo posto? Bellissimo. A dieci giorni dall'inaugurazione si sta animando il lungomare acquario che sta conquistando sempre più bagnanti di ogni età e non solo muggesani. Trieste. Allora abbiamo cambiato e siamo venute qui a Muggia e ci troviamo molto molto bene. Come venite qui in autobus, in macchina? La macchina, però veniamo molto presto e troviamo un piccolo posticcino lì sotto gli alberi e siamo fino alle dieci mesi e poi andiamo a casa. Un lungo tratto di costa bonificato, riqualificato e restituito ai cittadini, ancora in fase di completamento due dei tre bar previsti, ma la gran parte delle strutture, dai servizi all'area giochi per bambini, dal campo per gli sport da spiaggia alla zona con sabbia di fiume, sono già a disposizione dei sempre più numerosi fruitori. Bene, bene, io è la prima volta che vengo questa mattina, ma insomma intanto c'è calma e poi vedremo anche come posteggia, abbastanza bene il posteggio e adesso andiamo a provare il caffè. Entusiasti di questo lavoro, entusiasti veramente bello, siamo degli abituati, turisti da Trieste acqua e quindi tutto ok. L'accesso al mare è garantito da varie scalette, il problema più pressante è ancora da risolvere la realizzazione di uno scivolo per le persone con disabilità, progetto allo studio degli uffici comunali, ma non di facile realizzazione a causa della conformazione della costa. Per il resto sembra essere proprio l'acqua pulita uno dei principali attrattori dei bagnanti di questa mattina. Sì, si sta bene, c'è tanto spazio e il mare è pulito, stiamo bene. Una mia ora di nuoto nell'acqua pulita. La magia del balletto torna al Teatro Verdi di Trieste con un classico molto amato dal pubblico, il Lago dei Cigni, adesso stiamo vedendo le ultime prove, con una compagnia di fama internazionale che porterà sul palcoscenico giovani professionisti di talento, ovvero la compagnia di balletto dell'Accademia Solomia Krushenskaya di Leopoli. Restano in vigore le misure di sicurezza già adottate finora dal teatro con una capienza massima di 500 spettatori, il mantenimento dei distanziamenti, l'utilizzo delle mascherine FFP2 o FFP3 e la misurazione della temperatura all'ingresso. Lo spettacolo andrà in scena questa sera, anzi è già in scena tra l'altro, repliche sempre alle 19.30 dal 14 al 17 luglio, il 18 luglio inizio fissato alle 20, biglietteria aperta da oggi a sabato con orario continuato 9.16, la domenica dalle 9.13 e i lunedì e i festivi chiuso. Con la premiazione di qualche giorno fa cambiamo argomento, questo è l'ultimo servizio, si è chiusa l'edizione 2021 di Shorts, il festival dedicato ai cortometraggi tornato in presenza. Un bilancio della Kermess soprattutto in proiezione futura. Ho paura di dimenticare il tuo viso, il film del regista egiziano Sameh Hala è il vincitore dell'edizione 2021 di Shorts, chiusasi sabato con la cerimonia di premiazione al cinema Ariston. Un'edizione particolare, quella di quest'anno, intanto per il ritorno in presenza dopo che l'anno scorso Shorts si svolse prevalentemente in rete ed era palese anche durante la serata conclusiva la gioia da parte degli organizzatori e dei partecipanti per aver recuperato quel contatto umano che di fatto resta un momento fondamentale per l'esperienza cinematografica fatta anche e soprattutto di condivisione e dell'immediatezza dello scambio di opinioni. Già per questa ragione Shorts 22 deve essere considerata un successo. Poi i numeri che parlano altrettanto chiaro, non tanto quelli dei corti presentati, 81 provenienti da 44 paesi del mondo, quanto all'afflusso di persone che hanno seguito il festival online. 100.000 visualizzazioni da più di 30 paesi con accessi anche da Israele, Stati Uniti e Cina. Numeri che, come hanno sottolineato Chiara Valenti Omero, direttrice del festival, e il co-direttore Maurizio Di Rienzo hanno affiancato la fruizione in presenza senza dunque scalzarla. Ora però, ed è il messaggio di cui Shorts si è fatto portavoce, bisogna convincere il pubblico della necessità assoluta e indispensabile di tornare a vedere i film al cinema, in sala. Ed è su questo par di capire che anche Shorts lavorerà fin da subito. Servizio era di Marco Stabile. Sono circa 3.900 le persone che si sono iscritte ai due concorsi banditi dalla regione Frulli Venezia Giulia tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 e che si svolgeranno allo Stadio Rocco domani e anche fino al prossimo 16 di luglio. Sono le prime selezioni di questa portata dopo il sostanziale blocco dovuto alla diffusione del coronavirus. E domani, durante Sveglia Trieste, la nostra Laura Buccarella sarà collegata in diretta proprio dallo Stadio Rocco. Per questa sera è tutto, grazie, buon proseguimento, arrivederci.